Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, rallentamenti per traffico tra Pistoia e Bivia 11 e 1 verso Firenze. In A12 un chilometro di coda per Cantieri tra Sarzana e Carrara in direzione Rosignano. Prudenza inoltre per Nebbia Banchi, sempre in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano. Arriviamo in FIPI, rallentamenti per traffico all'altezza di Firenze e Scandicci in direzione ingresso città. Per i Cantieri sulla SRT 429, possibili rallentamenti nell'Empolese tra Fontanella e Santa Andrea per lavori di fresatura e riasfaltatura. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo e il volo Pisa-Londra delle 6.40, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12.26. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!